Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie non diffuse in Italia e dei media euro atalantisti. Vedete c'è un nuovo video con delle novità importanti dal blogger inviato di guerra, giornalista indipendente, che dir si vuole, ungherese, Tommaso, Tomas, dalla Crimea russa, attualmente sotto il controllo russo dal 2014, da una decina d'anni quindi. Terremoto magnitudo 3.3 Richter a 8 km di profondità vicino nell'Ucraina centrale, vicino alla città natale di Zelensky, Krivoy Rog in russo, Kriviri in ucraino. Dopo un attacco missilistico russo con Iskander, quindi il sistema missilistico di produzione locale, su depositi sotterranei di munizioni, di artiglieria, anche di armi di produzione occidentale da paesi nato, in mano oggi alle AFU, all'esercito di Kiev, di Sirsky. Lo riportano inviati russi, il Ministero della Difesa di Belosov tramite il portavoce Konashenkov non ha assolutamente commentato tale notizia. Mi sono scritto una sintesi e l'ho letta per voi, la sintesi di questo segmento del video. Nel frattempo, sui vari fronti di guerra nell'Ucraina del 91 e nella Russia del 91, c'è la conquista quasi totale, secondo una fonte ucraina, come la mappa in rete Deep State, da parte russa di Rabatine e Rabotino. Siamo nell'oblast di Zaporizia-Zaporoshe, nel sud dell'Ucraina del 91. Rabatine che era stata una forse più grande trofeo della famosa controoffensiva estiva ucraina del 2023, persa anche questa quasi del tutto all'Ucraina. Come abbiamo visto, rimane una parte periferica del nord del settentrione della cittadina del comune. Ribar, meglio dire, Isvestia, diversi media russi, hanno sbagliato secondo questo sito filorusso ungherese, secondo anche Ribar, che è un canale Telegram molto famoso in Russia, che si occupa di cose militari del fronte ucraino soprattutto. Questa pagina ungherese filorussa racconta come non sia stata conquistata dai russi la cittadina di Verne Kamenskaye, siamo verso Siversk, siamo nella contea di Bakhmut, Artyomovsk, quindi al nord di questa cittadina, verso la famosa linea fortificata di difesa ucraina, Sloviansk-Ramatorsk, come potete vedere, ben più a ovest. Cosa dice il giornale? Che il Ministero della Difesa russo, secondo l'ultimo bollettino di guerra, il paese sarebbe stato ripulito dalle forze armate nemiche. Isvestia ha interpretato questa notizia ufficiale dal Kremlin come una conferma della conquista russa, della stesso soborgo, sostanzialmente un soborgo di Siversk. La sesta brigata motorizzata dalla Guardia Nazionale russa, secondo le coordinate dei suoi combattenti, la conquista russa non ci sarebbe mai, assolutamente mai stata. Ribar ha confermato il fatto che Isvestia ha sbagliato a questo giro, a confermare una conquista che non c'è mai stata. Come potete vedere, la mappa filo occidentale, filo ucraina, Nato, Deep State, non conferma assolutamente la conquista dello stesso centro a est di Siversk, quindi verso in direzione ovest. Nell'ultimo bollettino di guerra russo è anche scritto, a chiare lettere, che sono stati ripresi dalla parte di Mosca due centri nell'oblast regione di Kursk, nella Russia del 91, quindi il luogo, sede, la famosa incursione ucraina da inizio agosto scorso. I due paesini riconquistati si chiamano Novaya, Sarakina e Pakravsky, a riferirlo quindi lo stesso documento del portavoce Igor Konashenkov. Nelle regioni oblast di confine della Russia rispetto all'Ucraina del 91, mercoledì ci sono stati nuovi attacchi dell'artiglieria pesante ucraina e dei droni ucraini. Soprattutto contro depositi di carburante e basi dell'aviazione russa, come sempre accade, ci sono anche vittime civili. Cosa ha detto l'SK, che è la commissione inquirente nazionale russa? Ha riferito che nella giornata di ieri un giudice russo ha condannato a 14 anni e mezzo di reclusione un cittadino americano, Trevor Reed, che ha combattuto come mercenario dalla parte ucraina. Lui che è stato un marino americano già condannato in Russia a un tribunale a Mosca nel 2019 per aver aggredito poliziotti locali. La legione ucraina fatta in Polonia da cittadini ucraini profughi, un paradosso, veramente un paradosso, è stato un flop, un fallimento completo dalla parte polacca e ucraina. Neanche 200 chi volontariamente si è registrato per gli addestramenti. A riferirlo Vladislav Koscińakamysh, ministro della difesa polacco del governo europeista di Donald Tusk. In tre mesi gli arruolamenti sono stati veramente un fallimento. L'obiettivo era reclutare il più possibile i centinaia di migliaia di profughi maschi ucraini in Polonia. La legione aveva come obiettivo, almeno secondo Zelensky e Tusk, come hanno detto loro, a luglio, reclutare una brigata intera, secondo gli standard della Nato, cioè almeno intorno ai 5.000 uomini. Quindi il 4%, solamente 200 circa, sono stati reclutati al momento. Il ministero della difesa ucraino di Rustem Umerov sta creando un centro per il reclutamento della legione ucraina internazionale nella città di Lublino, in Polonia, per il futuro. Aleksandar Vucic, presidente di Belgrado serbo, ha detto l'Occidente sta perdendo il controllo del conflitto in Ucraino proprio per l'appesantimento della situazione in Medio Oriente, quindi non solo nei rapporti con la Russia. Intervista di Vucic a Pink TV, una televisione di Belgrado privata, ha detto la situazione molto pesante, complessa, i conflitti Medio Orientale e Ucraino non arriveranno presto ad una fine e per Washington questo sarà un boomerang, tornerà cioè indietro con gli interessi e quindi sarà una cosa spiacevole, non proprio una vittoria geopolitica contro l'asse, quelli che molti chiamano asse del male dalla parte atlantista, euroatlantista, cioè quello cinese, russo, iraniano, eccetera. Vucic, tempo addietro, qualche settimana fa, aveva previsto, aveva detto che il conflitto ucraino terminerà nei prossimi anni, per i prossimi decenni, con il Forkato de König, cioè con lo scenario, il copione della guerra coreana. Quindi la divisione dell'Ucraina in due, una parte, il filo occidentale e l'altra sotto il controllo del Kremlin, diretto e indiretto. A proposito di Serbia, il vice primo ministro e nonché ministro anche degli interni, credo, Alexander Vulin del Partito Socialista Serbo, ha detto che anche il primo ministro ungherese in occidente stanno preparando un attentato contro lui, contro Orban, anche dopo il dibattito alla plenaria del Parlamento Europeo Strasburgo ieri, proprio per le posizioni verso il conflitto ucraino, verso la Russia del primo ministro di Fidesz. A riferirlo, lo stesso Vulin, il serbo, a un giornale militare che si chiama Difesa Russo, proprio nella giornata di ieri. Ha detto Vulin, l'Occidente guarda come dei politici assolutamente sgradevoli per le posizioni politiche estera, ad esempio Robert Fitzgerald, l'attentato a metà maggio a Banskabinstriza in Slovacchia. Ibrahim Raisi, l'ex presidente iraniano, morto. Donald Trump, sappiamo tutti, poi gli incidenti li chiamano così. Adesso si preparano a colpire anche Orban. Nonché lo stesso Vulin, come hanno detto diverse fonti russe riguardo a dei preparativi per un attentato da parte degli inglesi dell'MI-6. L'ho raccontato qualche settimana fa. A Belgrado, lo stesso Vulin ha detto ci sono state delle proteste a seguito delle elezioni vinte dal partito di Vucic. Quindi tentativi violenti in stile Maidan dalla parte soprattutto americana di cambiare il potere e quindi il governo a Belgrado anche con la forza. Orban ha reagito alla plenaria e c'è stato uno scontro veramente terribile. Al Parlamento europeo ha ringraziato la Mezzola per poi la moderazione del dibattito che però, dice Orban, il primo ministro unglese non è stato un dibattito sugli argomenti seri e quindi le sfide nel futuro nell'Unione Europea, anzi. È stato uno scontro, un scambio di accuse politiche di partito assurdo, dice Orban, con la solita propaganda europeista della nuova sinistra. La corruzione in Ungheria, la Banca Mondiale, i suoi dati usciti pubblicati qualche settimana fa. Ho raccontato anche questo. L'Ungheria avrebbe un tasso di corruzione ben più basso, per esempio, dell'Italia. Su Freund, Daniel Freund, il verde tedesco, che recluta giornalisti su Skype a pagamento per conto di Soros per gettare fango sull'Ungheria. Orban ha denunciato anche questo. Un parlamentare, europarlamentare olandese, dice Orban, ha raccontato che l'Olanda sta finanziando l'Ungheria quando gli olandesi sono i primi beneficiari dell'area Schengen dell'Unione Europea, ricorda Orban, e vogliono quindi, dalla parte di questi politici europeisti dell'Ovest europeo, sfruttare i popoli del centro-est europeo, con bassa fiscalità e manodopera a basso costo, come sempre avviene, dal cambio di regime, di sistema, come si dice in Ungheria, Renzer-Waltas, dopo l'epoca socialista e quindi l'arrivo nell'epoca liberale, neoliberale e capitalista. Poi, ancora Orban, assurdo che la Salis, Sant'Ilaria, la martire, la Giovanna d'Arco, arrivata in Ungheria dalla Lombardia, parli di stato di diritto e di democrazia quando lei è venuta in Ungheria con dentro lo zaino un manganello metallico, dice Orban, a Budapest, proprio per colpire le persone chiamate nazisti, dalla solita propaganda che mente dalla parte dell'Occidente, dell'Italia, dei medi italiani, media dell'anglosfera soprattutto, come succede dal 2010. Poi ancora Orban, un europarlamentare belga, ha cercato di educare l'Ungheria sullo stato di diritto, quando proprio a Bruxelles, qualche mese fa, ho raccontato una conferenza sullo stato di diritto, conservatrice, è stata bandita dal sindaco del distretto della capitale belga e dei palazzi dell'Unione Europea, e loro parlano di democrazia. Poi attaccano l'Ungheria e il governo ungherese sui buoni rapporti con Putin. Ah, proprio Dobrev, quindi gli europeisti anche ungheresi, Dobrev, Djurčein, lei che è nipote di Oprohonto al Boja di Kadar nell'epoca comunista in Ungheria, moglie di Djurčein Ferenc, ex primo ministro ungherese di coalizione democratica oggi, quindi europeista, che stava per far fallire l'Ungheria nelle braccia dell'FMI del Fondo Monetario Internazionale tra il 2008 e il 2010. Loro che accoglievano Putin, perché faceva comodo con Gazprom, nella loro cucina, ci sono le foto, intorno agli anni 2005-2006, proprio in Ungheria accoglievano Putin, andavano da Putin e erano molto amici di Putin, qualcosa è cambiato, soprattutto dalla parte di filantroponi illuminati come Soros, Djurčein, che finanziano questi partiti dalla parte americana. Su Modior Peter, il nuovo capo dell'opposizione ungherese, partito attiso, è arrivato secondo le europee in Ungheria. Lui, proprio lui Modior, parla di furto dalla parte del Stato di oligarchia, nel mentre lui si è fatto eleggere al Parlamento Europeo come eurodeputato per avere l'immunità parlamentare per nascondersi dalle accuse di furto, quell'incidente di giugno scorso sul Danubio, quel telefono rubato dopo lo scontro in discoteca, è quello che è successo, vi ho raccontato tutto mille volte. Chiude il primo ministro ungherese in plenaria. Dura la democrazia finché loro vincono, se loro vincono, chi gli europei siano nuove destre e nuove sinistre. Su Modior Peter, ancora Orban. Vi porto la prospettiva assolutamente censurata in Italia, quella di Orban, non di certo quella degli europeisti. Proprio Modior parla da eurodeputato quando lui qualche mese fa diceva che il mestiere di eurodeputato è un mestiere falso, fatto solo per guadagnare senza fare nulla. E adesso stringe accordi con Manfred Weber, capo dei popolari europei, che lo appoggia difendendolo col diritto di immunità. Questa è una responsabilità morale del Partito Popolare Europeo. A proposito, 24.hu, che è un sito d'opposizione europeista anti-Orban in Ungheria. Modior Peter non solo ha guadagnato con stipendi lauti, e quindi fuori norma negli anni passati col fondo filo studentesco per i debiti universitari in Ungheria di Akitelközpont in Ungherese. Ma ha anche piazzato il fratellino con uno stipendio da circa 900 euro mensili. Quindi anche questo dovrà essere esaminato dalla finanza ungherese e da certi corti, sempre a Budapest e dintorni. Cose mai raccontate dalla stampa italiana, neanche quella definita antisistema o di destra in Italia. Grazie per aver visto questo video al prossimo, tra Italia e Modior Orsag.